Grande festa alla Juventus Official Fan Club di Acicastello in provincia di Catania. I tifosi bianconeri della Sicilia si sono ritrovati per festeggiare l'ennesima stagione trionfale della squadra del cuore, con la vittoria dello Scudetto, il settimo consecutivo della Coppa Italia, la quarta consecutiva. Una serata all'insegna della goliardia, del divertimento per il presidente Fabrizio Patanei, i membri del direttivo e i circa 200 appassionati soci dal cuore a strisci e bianconere. Grandi applausi e cori da stadio quando il maxi schermo ha proiettato i gol della fantastica stagione della Juventus. Soprattutto la protezza di Higuain a Milano contro l'Inter, che ha veramente fatto esplodere l'intera sala. Ciao, mi chiamo Carlo Gagliano e sono un membro del direttivo dello Juventus Club Acicastello. Come di consuetudine ogni anno, a fine stagione, organizziamo la festa insieme ai nostri soci, una festa dove troviamo anche modo di divertirci, di poterci ritrovare, anche se ogni anno comunque tutta la stagione stiamo insieme. Passo la parola al presidente che ci dirà come è andata quest'anno tutta la stagione e anche la festa che abbiamo organizzato. Ciao a tutti, sono Fabrizio, presidente J-Official Fan Club Acicastello. Tony, Carmelo e Fabio, altri membri del direttivo. Siamo alla fine, come diceva Carlo, della nostra serata con cui chiudiamo l'anno calcistico, un altro anno fantastico con il settimo scudetto consecutivo, quarta Coppa Italia. Noi da otto anni siamo diventati club ufficiali, siamo contenti perché il club cresce ogni anno di più, perché le persone ci seguono, perché ormai siamo diventati punto di riferimento in questa zona qui. e nonostante migliaia di chilometri che ci separano da Torino, la nostra fede alla squadra bianconera è incrollabile e anche se non possiamo essere sempre in massa presenti allo stadio, dal nostro piccolo stadio che è la nostra sede, siamo sempre a tifare per i colori bianconeri. Anche quest'anno abbiamo passato un anno molto bello, sempre presenti a Torino, sia per le partite di campionato, sia per le partite di Champions, quindi non possiamo chiedere di più a quello che è il nostro gruppo nato proprio per sostenere questi fantastici colori, di cui siamo fieri e orgogliosi di far parte e che porteremo sempre nel nostro cuore.